Nessun sopravvissuto. Nell'impatto hanno perso la vita il pilota e tutti i membri dell'equipaggio. Tra i passeggeri, anche l'equip di ricercatori dell'Università di Lausanna, guidata dai fratelli Selva, diretta a Washington per conferire sugli ultimi risultati delle loro sperimentazioni. Nulla si conosce ancora con chiarezza delle cause del disastro aereo. Per il momento, nessuna pista è esclusa dagli inquirenti. Che centriamo noi in tutto questo? Davvero non capite? Non c'è tempo per capire. Clonazione. Fino a 25 anni fa i fratelli Selva erano tra le voci più autorevoli della genetica medica. E dopo la sua morte tu hai continuato gli esperimenti? Sei un dottore e non ci hai detto niente. Dottore, dottore, dottore del buco. No, no, aspettate ragazzi, non avete capito niente. Uno dei fratelli Selva è sopravvissuto all'incidente. Nessuno sa dove si trova adesso, nessuno sa come si chiama, nessuno sa che è vivo. E per tutti questi anni? Ha continuato i suoi esperimenti? Col favore delle tenebi? Ragazzi, ragazzi, tutta questa situazione è già inquietante di suo. La smettete di completarvi le frasi a vicenda? Sì, ragazzi, scusa. D'accordo, andiamo. Mi porto in un posto, così capirete.